Sono i cittadini che invece di Pighiera lavoravano al centro sociale, guarda. Canta di... Ehi, guarda, ehi, guarda. I nani da comunità. Chihuahua! Chihuahua! Guarda, che banda che c'è! Quello è Trudono, il nano della Trudy, che lo pittano. Comunque, tra i nani... Ah, scusate, ragazzi, voi avete ferma immagine, vero? Fino a quando non vi diciamo stop, le fate così, come il freezer del grande fratello. Ma il nano è il signor da papo, non c'era mai... La signora ha chiesto, ma il papo lo ha chiodato alla messa? Il signor, però, a Maratea lo facciamo il nano, il freezer da papo. Ok, ragazzi, potete liberarvi da questa posizione. Abbiamo scoperto che tra i nani c'era un nano che aveva delle attitudini che andavano un po' al di là dei nani comuni. Lui era il nano cubolo. Era il nano che tutte le sere manteneva testa in discoteca al cubo nella foresta. Si piazzi qua, nano. Lui il cubo, pensate, se lo portava da casa? Lui ci aveva lavato due zainetti, il troll e il cubo. Il cubo lo piazzi là, lo piazzi là. Nano cubolo. Bene. Ma riesci a ballare con quel peso sulla testa? Prego, allora... Vada pure. Al... Non è burocchio. stoppa Mike, voi potremmo andare avanti fino alle 5 del mattino potremmo andare avanti stoppalo nano cupolo, i nostri più sentiti complimenti bravo proprio a lei nano trudi come va? nano trudi bene? e abbiamo dato una bustina di polasa a quel bambino per fargli metterlo il costume e tutto è belliccia, belliccia vera è 100% orsecchiotto quelli bene ragazzi potete andare, siete stati bravissimi allora nano cupolo, ogni tanto quando sente questa ragione, ogni tanto metti Mike, metti il nano cupolo ogni tanto